Il Lecchese e la Valsassina sono state tra le aree maggiormente colpite dal maltempo che a più riprese ha funestato l'estate del 2019, facendo segnare in Italia quasi il doppio di tempeste, grandinate e nubi fragi rispetto alla stessa stagione dello scorso anno, con milioni di danni nelle campagne ma anche nelle città e al turismo. È evidenziarlo col Diretti che ha effettuato uno studio basato sulla Banca Dati Europea sui eventi estremi, l'ultima violenta perturbazione di agosto che ha colpito la Lombardia ma anche altre regioni come il Piemonte, le Marche e la Toscana, ha fatto salire infatti a 706 episodi di maltempo estremo con un balzo dell'88% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. A ciò si aggiungono i roghi nei boschi che a partire da inizio anno hanno mandato in fumo diverse centinaia di ettari nella zona dell'Alto Lago. Il cambiamento climatico arriva dopo la quinta ondata di calore dell'estate in agosto che segue un mese di luglio bollente, sottolinea la Coldiretti, registrata una temperatura superiore di addirittura 2 gradi rispetto alla media storica, mentre giugno con più 3,3 gradi si era classificato al secondo posto tra i più bollenti dal 1800 quando sono iniziate le rilevazioni. Si è trattato di un'estate a due facce, spiegano Fortunato Trezzi e Giovanni Luigi Cremonesi, presidente e direttore di Coldiretti Comolecco, segnata da bolle di calore anomale ma anche da eventi estremi che hanno distrutto le coltivazioni nei campi con piante sradicate, serre divelte ma anche allagamenti, soie mais stesi a terra dalle forti tempeste di vento, trombe d'arie temporali intensi accompagnati da grandinate killer con frane, strade di campagna impraticabili e pascoli isolati che hanno portato a chiedere nelle zone colpite, lo stato di calamità per il quale occorre garantire adeguate risorse. Si sta verificando, affermano, una tendenza alla tropicalizzazione che si evidenzia con una più elevata frequenza di manifestazioni violente, grandine di maggiore dimensione, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi e intense ed il rapido passaggio dal caldo al maltempo che compromettono le coltivazioni nei campi.